Musica Benvenuti a questa seconda pillola sull'organizzazione del vostro account di Azure DevOps In questa pillola vedremo velocemente l'autenticazione e capiremo come Azure DevOps usa gli account e utilizza i gruppi interni per decidere i permessi che varie persone che i vari account hanno nella vostra istanza Siamo a livello di organizzazione questa è la mia organizzazione Gian Maria Ricci EU se io a livello di organizzazione vado e premo Organization Setting in basso a sinistra andrò nel menu di gestione dell'organizzazione nella quale ho un nodo nelle security Policy e Permission che mi consente di vedere i permessi a livello di tutta l'organizzazione In questo caso il gruppo più importante che voi dovete conoscere è il Project Collection Administrator quello che contiene tutte le persone che sono in grado di amministrare tutto il vostro account quindi tutta la vostra organizzazione in questo caso come vedete quassù mi viene detto la tua organizzazione ha solo un Project Collection Administrator per ridurre il rischio di perdere l'accesso di amministrazione dovresti potenzialmente aggiungere altri gruppi quindi se io voglio aggiungere un altro utente e dire quest'altro utente è amministratore di tutta questa collection basta che entro dentro Project Collection Administrator prendo Members e vado semplicemente a cercare utenti e gruppi e ad esempio aggiungere qualcuno e poi andare a metterlo dentro questo è tutto ciò che vi serve per organizzare i permessi a livello di tutta la vostra organizzazione questo è il gruppo più importante ce ne sono altri ma gli altri hanno un significato un po' più particolare che vedremo dopo differente è un'altra situazione quella in cui io ho creato due Team Project che nel precedente pillola avevo chiamato appunto scatole per togliergli quella connotazione di progetto quindi avendo la scatola A e avendo la scatola B quello che facciamo è capire quali sono i permessi all'interno di una scatola se io prendo il Team Project A quindi la scatola A e vado Project Setting in questo caso io sto prendendo i setting di progetto e non più quelli di tutto l'account di tutta l'organizzazione avrò un altro menu come vedete è differente ma anche in questo menu abbiamo una sezione in cui abbiamo le Permission e anche in queste Permission noi vediamo che abbiamo dei gruppi questi gruppi sono gruppi interni del vostro account non hanno a che fare con i gruppi di Active Directory anche se voi aveste un'installazione di Azure DevOps Server in questo caso i gruppi più importanti su cui mi voglio focalizzare sono due Project Administrator e Contributors Project Administrator va da sé se voi vedete i permessi ha una serie di Hello di Allow e quindi sostanzialmente vi permette di andare a gestire tutta la scatola se voi mettete all'interno della scatola A Project Administrator un utente quest'utente all'interno del Team Project scatola A può fare di tutto creare repository, cancellare repository, aggiungere altri utenti andare a creare iterazioni eccetera eccetera sono gli amministratori una cosa importantissima che dovete capire è che qui abbiamo scatola A slash Project Administrator significa che quando io creo un Team Project scatola A automaticamente mi vengono creati dei progetti dei gruppi scusate che sono sostanzialmente locali di questo progetto per fare l'esempio se noi torniamo all'inizio del nostro account e andiamo nella scatola B e andando nella scatola B andiamo poi a vedere i project setting della scatola B e le permission noteremo che se andiamo a vedere i project administrator della scatola B questo gruppo in realtà è nominato scatola B il nome del Team Project tra parentesi quadre slash Project Administrators evitate quindi di fare confusione avrete molti gruppi project administrator all'interno della vostra organization ma ognuno ha come scope solamente quello del Team Project della scatola all'interno di cui esso è stato creato tornando sui nodi di permission noi dobbiamo focalizzarci anche su un altro gruppo molto molto importante che è quello dei contributors la descrizione dice che i membri di questo gruppo possono aggiungere, modificare cancellare item nel Team Project pensiamolo in un certo modo i contributors che anche loro sono localizzati all'interno di una scatola quindi noi avremo tanti gruppi contributors nella nostra organizzazione uno per ogni Team Project i contributors sono quelli che lavorano nel Team Project e che possono quindi creare e cancellare work item sono quelli che possono lavorare nel codice quindi fare commit check-in e check-out per il vecchio TFVC push, commit, clone tutto quello che volete per i vari repository Git possono definire build eccetera eccetera quindi è importantissimo capire che un contributors è un utente normale di un Team Project della scatola che può operare all'interno della scatola eccetto i permessi amministrativi ad esempio non può cancellare un repository andando avanti nella configurazione se ricordate la scorsa pillola vi avevo parlato dei team del fatto che all'interno di una scatola di un Team Project esiste un team di default chiamato per default come il Team Project in questo caso Scatola B ma che noi possiamo costruire più team soprattutto per generare dei nuovi backlog all'interno del nostro Team Project la cosa importantissima ho premuto il tasto New Team chiamo il New Team prova Team 1 la cosa importantissima è che abbiamo un concetto di amministratore del team è quello che amministra il team e quindi può aggiungere rimuovere membri del team e fare alcune cose ma l'importante è che noi abbiamo per mission scatola B Contributors questo che significa? significa che quando noi prenderemo Create verrà creato un nuovo team ma dietro questo nuovo team verrà creato un nuovo gruppo di security di Azure DevOps questo nuovo gruppo di security di Azure DevOps si chiamerà come il team e automaticamente questo gruppo verrà inserito dentro la scatola B Contributors quindi nei contributors del nostro Team Project quest'ultima opzione indica la creazione di un area path con il nome del team ma la vedremo in dettaglio in prossimi pilloli ma la cosa importante è che se io adesso premo Create e quindi creo un nuovo team e poi ritorno nelle permission del Team Project ricordate le permission non esistono native per un team io la permission ce l'ho sempre e solo o di tutta l'organizzazione o del Team Project quindi in questo caso io ho i permessi del Team Project come vedete avete un nuovo gruppo scatola B Team che è questo qui era quello creato automaticamente quando avete creato il primo team ma ho anche ora Prova Team 1 cioè un nuovo gruppo associato al Prova Team 1 che è stato creato quindi se volete rivedere dentro Team abbiamo Prova Team 1 e dentro Permissions abbiamo Prova Team 1 se io vado ora a cliccare dentro Prova Team 1 e vado nel tab Member Of per capire di chi è membro questo Team 1 di base è membro di Contributors questo significa che anche se voi create all'interno della vostra scatola del vostro Team Project 10 team differenti creando quindi 10 backlog differenti come avete visto nella precedente pillola quando voi mettete un utente ad esempio Gian Maria all'interno di un team questo utente verrà messo all'interno del corrispondente team di security che essendo all'interno del corrispondente Contributors del Team Project ha accesso a tutti i work item tutto il codice e le build quindi questa è solitamente una qualcosa che rende confuso l'utente perché l'utente spesso pensa che configurando un Team Project quindi scatola B con dentro Prova Team 1 2, 3, 4 se mette Gian Maria dentro il Prova Team 1 poi lui non potrà vedere i work item ad esempio che sono nel backlog di Prova Team 2 questo non è assolutamente vero perché dato che tutti i gruppi dei vari team sono poi a loro volta membri di Contributors da Contributors ereditano tutti i permessi per vedere tutto frazionare l'accesso ai work item e al sorgente nel in caso voi avviate più Team sarà oggetto di nuove pillole per ora è tutto vi attendo alla prossima pillola salve a tutti